buongiorno amici di fano tv bentrovati alla rassegna stampa di oggi venerdì e 28 ottobre 2022 oggi si festeggiano i santi simone e giuda li vediamo subito nell'almanacco sono due dei dodici apostoli simone fu detto cananeo per distinguerlo da san pietro il cui nome originario era quello appunto di simone mentre giuda fu detto taddeo per distinguerlo da giuda iscariota che fu poi l'apostolo che tradì gesù e entrambi predicarono il vangelo una volta ricevuto lo spirito santo in diverse parti del mondo di allora in modo particolare giuda predicò in siria e in mesopotamia in persia addirittura convertì tutta la famiglia reale e anche i dignetari che facevano parte della corte ma poi fu martirizzato perché fu incolpato dai sacerdoti del tempio del sole e della luna di non sacrificare appunto a questi astri e giuda mantenne salda la sua fede e fu martirizzato fu dunque ucciso dunque oggi si festeggiano i santi simone e giuda veniamo alle previsioni del tempo le previsioni del tempo vediamo la grafica e possiamo dire che per tutto il weekend ci sarà bel tempo del tempo con sole splendente per l'intera giornata di oggi i venti saranno al mattino e al pomeriggio moderati e proverranno da nord ovest mentre il mare sarà poco mosso le temperature oscilleranno dai 13 ai 18 gradi forse qualcosina anche di più nelle ore più calde della giornata questo per quanto riguarda le previsioni del tempo ed ora possiamo aprire i giornali a partire dal resto delle carlino sulla pagina di fano vediamo subito l'apertura e la vediamo che poi è simile a quella del corriere adriatico perché ieri c'è stata un'importante conferenza stampa sulla spiaggia nei pressi della foce del fiume metauro nel camping fano c'è stata una conferenza nella quale è stata illustrata la fine dei lavori e della posi in opera delle scogliere di metauriglia un grande lavoro che ha costituito un grande finanziamento 4 milioni 200 mila euro che sono stati ripartiti in parti uguali tra la regione e le ferrovie alle ferrovie serviva la protezione della linea ferroviaria dato che le vecchie scogliere molto vicine alla costa non riuscivano più a frenare l'impeto e la furia delle onde delle mareggiate e quindi si sono realizzate sei nuove scogliere per oltre un chilometro ora si tratta solo di un primo stralcio ieri c'è stato anche l'assessore aguzzi l'assessore regionale aguzzi che ha dato notizia che sarà finanziato anche un secondo stralcio che unirà queste sei scogliere alle scogliere di torrette quindi tutto un litorale protetto dalle mareggiate e potrà anche così favorire il ripascimento delle spiagge terminato con sei mesi di anticipo il primo stralcio a sud della foce del metauro costo della maxi opera 4 milioni 203 mila euro e ci sono stati diversi personaggi ieri ad illustrare questo intervento a partire dal sindaco massimo seri poi anche dal vice sindaco cristian fanesi ma c'erano anche i rappresentanti del governo e soprattutto il provveditore delle opere marittime di ancona nel cui ufficio è stato fatto il progetto risorse del PNRR per quanto riguarda l'esecuzione del secondo stralcio altri 4 milioni ma questa volta saranno tutti soldi che proverranno dalla regione grazie appunto al PNRR e a fondo pagina vediamo invece un'interrogazione della Lega firmata dal capogruppo Gianluca Ilari per quanto riguarda la suddivisione dei finanziamenti a favore degli impianti sportivi Ilari dice che si favoriscono uno gli uni mentre si disattendono gli altri non è possibile ha detto che il comune metta 250 mila euro per il campo da calcio di Sant'Orso la giunta ha approvato pochi giorni fa il progetto esecutivo e quasi 500 mila per rifare il campo sintetico al vallato oltre a 120 mila per il campo da baseball alla trave mentre altri impianti e altri impianti sono destinati e solo le bricciole ovvero non c'è un equilibrio secondo appunto Ilari nella ripartizione dei fondi a disposizione non è un caso che gli interventi decisi riguardino Sant'Orso, Vallato e Trave dice Ilari accade che insomma ci siano figli e figliastri questa è la posizione della Lega violenza sessuale all'ido un fatto che si rievoca di fronte al tribunale il giudice ora vuole ascoltare anche l'amica della presunta vittima è stata rinviata ancora la sentenza in merito a questa vicenda e fu commessa violenza punto interrogativo all'ido il giudice rievi ancora la decisione già in passato la vittima era stata sentita nel corso di un incidente probatorio ma la difesa dell'imputato un 21enne fanese all'epoca aveva 19 anni ha messo in evidenza alcuni aspetti in cui il giudice vuole vederci chiaro insomma sembra che subito dopo il fatto la presunta vittima avrebbe dato tre versioni diverse sulle modalità dell'abuso una all'amica una alla madre e una al fidanzata insomma ci sono state così delle lievi lievi non so ci sono lievi poi discrepanze tra una versione e l'altra e quindi un nuovo supplemento di udienza per quanto riguarda questo fatto cala l'incidenza del covid notevole flessione dei positivi e questa è una bella notizia che ci proviene dalla val cesano cala l'incidenza del covid appunto nei centri della val cesano dopo tre settimane di incremento coi positivi complessivi negli otto comuni della vallata passati da 99 a 253 dal 27 settembre al 18 ottobre ebbene negli ultimi nove giorni si è registrato un trend inverso ovvero vengono sono diminuiti i casi positivi e questa per fortuna è una bella notizia ma non ci si deve ovviamente adagiare sugli allori perché la pandemia è sempre in agguato castagnata delle streghe nel segno di halloween halloween è alle porte già si vedono le maschere in giro per la città nei negozi nei centri commerciali ebbene a san giorgio domani e domenica c'è una bella manifestazione che attrarrà senz'altro i ragazzi la kermesse vivrà la sua diciassettesima edizione e torna dopo due anni consecutivi di stop per colpa ovviamente della pandemia la più longeva e popolare manifestazione della provincia ispirata ad halloween e la castagnata delle streghe di san giorgio di pesaro nel comune di terre roveresche domani e domenica la kermesse vivrà la sua diciassettesima edizione senza problemi di covid saremo già alla diciannovesima vabbè comunque questo conta poco comunque sarà una manifestazione tutti già si si preparano con trucchi con vestiti con la fantasia a interpretare questo momento così dispensieratezza a durmino si parla del legato albani i conti volano in positivo insomma si è così rinsaldato il bilancio era in disavanzo di 164 mila 467 euro nel 2010 ed ora invece è in avanzo di 320 mila 690 euro ebbene già la presidenza andreani aveva cercato di recuperare questo handicap ora la presidenza rossi e dopo quella di pagnoni ha portato la stabilità di un bilancio inattivo per quanto riguarda il legato ebbene dieci anni fa c'era un disavanzo veramente imbarazzante oggi ci sono più di 320 mila euro di avanzo sono investimenti e restauri in corso in merito a questo legato che ora va benissimo dal punto di vista finanziario vediamo anche quello che accade ad acqualagna che ha le prese con la fiera del tartufo anche qui ci sono tuberi 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 o funghi cosa sono cos'è un tartufo non lo so vabbè comunque una cosa buona da mangiare ebbene è stato trovato un esemplare da 870 grammi del valore considerevole 5 mila euro ebbene è veramente un ricchezza questo tartufo e ora fa bella mostra di sé e nello stand del commerciante Giancarlo Marini rimarrà in venduto se rimarrà in venduto parterà per gli Stati Uniti dove certamente un compratore lì lo si troverà ed è una delle chicche che si trovano alla fiera di acqualagna vediamo ora le pagine pesaresi del resto del Carlino dove oltre che al tartufo si parla anche di olio si parla di olio perché la produzione è alle stelle i costi sono alle stelle è aumentato un po tutto è aumentata l'energia è aumentata la molitura insomma è aumentato anche il prezzo del vetro per quanto riguarda le bottiglie col diretti confagricoltura e cia di con un litro di vero extravergine non può costare meno di 14 euro al litro ovvero scilla tra i 14 e i 20 euro al litro questo è il prezzo di un buon olio di un olio salubre di un olio saporito di un olio che fa bene alla salute compravamo le bottiglie a Mariupol addirittura dice Lucarelli uno dei maggiori produttori sia di vino che di olio Roberto Lucarelli dice ma ora ovviamente a Mariupol non può più produrre le bottiglie di vetro ci siamo convertiti alla latta che costa di meno siamo passati da 75 centesimi a bottiglia a 1,40 praticamente il doppio insostenibile per chi come la nostra e le altre aziende si rifiuta di fare il gioco della speculazione insomma non accettiamo ha detto Lucarelli il sostegno a chi vuole approfittarsi della situazione di crisi che in questo momento è incombente e per quanto riguarda invece l'emergenza abitativa vediamo che c'è veramente un fatto strano c'è molta richiesta di case ebbene 254 alloggi popolari in tutta la provincia sono bloccati per quanto riguarda l'esigenza di fare lavori ERAP interrogazione di Biancani le case ci sono ma non sono disponibili causa interventi di manutenzione altre 17 questo ancora più grave sono bloccati per questioni burocratiche che non si riescono a risolvere e questo dicevo veramente molto più grave con i livelli attuali di povertà ed emergenza abitativa l'ERAP e quindi la regione non può tenere 270 alloggi popolari congelati cioè non disponibili alle famiglie che hanno bisogno e questo un po' il sintesi che emerge dal messaggio che si può leggere dietro una interrogazione presentata nei giorni scorsi dal consigliere regionale del partito democratico Andrea Biancani in regione che chiede alla giunta di attivare un osservatorio regionale della condizione abitativa per capire quali sono le nuove povertà a cui dare risposte immediate insomma non si può far finta di niente non si può andare lenti un tran tran così magari apatico di fronte a un'emergenza simile che fa male alla gente che la vive bici telefoni borse l'ufficio delle cose perdute sì ebbene forse gli italiani i pesaresi i fanesi insomma tutti coloro che abitano la nostra regione sono un po' smemorati ebbene molte sono le cose che si trovano nei depositi comunali che sono state perdute magari ritrovate da un proprietario che invece di tenerselo per sé ha così giustamente ridate al comune a disposizione del legittimo proprietario e sono tantissime soprattutto sono centinaia tra biciclette borse cellulari e quant'altro sono tanti gli oggetti che sono appunto nel capannone nel magazzino di strada dei cacciatori a pesaro qui vediamo danilo ceccolini che gestisce questo deposito di cui è custode tra le cose c'è una graziella rossa fiammante abbandonata nel 2013 una mountain bike di un blu metallizzato entrata nel 2015 una bici da corsa bianca con le ruote rosse inglobate nel magazzino più recentemente come fare però se uno individua la propria bicicletta il proprio oggetto smarrito nel deposito non può andare lì e reclamarlo ma deve presentare regolare denuncia dove l'oggetto perso viene descritto con certi particolari allora la cosa viene restituita un altro articolo subito soldi a fondo perduto e risarcimento è quello che chiede il sindaco di cantiano piccini alessandro piccini a tutti gli onorevoli che sono stati eletti dalle marche in parlamento ebbene bisogna fare risorgere il paese territorio distrutto aiutatici e questo l'appello del sindaco ma non la mandate per le lunghe tutte le mattine c'è nei giornali un appello in questo senso aiutatici ma aiutatici presto perché la gente deve vivere oggi non può aspettare di farlo domani cantiano è uno dei comuni più colpiti dall'alluvione del 15 settembre che miracolosamente non ha fatto vittime ma però ha fatto tanti 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 danni e poi vediamo un altro articolo che riguarda una protesta di alcuni cittadini pesaresi che evidenziano come una strada a villa ceccolini è tutta è tutta disastrata e a questo proposito c'è una raccolta di firme per invitare l'amministrazione comunale a fare la normale manutenzione si tratta di via lago di nemi 30 residenti insorgono sulle condizioni per molte auto dicono danni a causa delle buche nel merino la scarsa pulizia dei fossi ogni volta si accumulano detriti ma se non si procede alla normale manutenzione cioè alla cura delle buche quando queste si formano magari alla pulizia dei fossi si arriva a un punto di degrado tale che poi bisogna asfaltare tutto con maggiore spesa vediamo anche la pagina del corriere adriatico l'apertura è dedicata alle scogliere di metauriglia barriere a sud del metauro a guzzi promette 4 milioni l'assessore regionale con serie fanesi scogliere a metauriglia lavori conclusi e lavori conclusi addirittura prima di quanto previsto dal crono programma di solito si ritarda questa volta invece si è anticipato con gioia e soddisfazione anche dei concessionari di spiaggia concessionari che al momento non sono stati direttamente interessati dalla protezione della costa perché quest'ultima non arriva alle concessioni ma subito dopo seguirà come abbiamo detto prima un secondo stralcio che interesserà quattro concessioni fino a torrette e quindi allora lì anche la spiaggia quella fruibile dai bagnanti subirà una qualificazione un vantaggio c'è una precisazione sulle corriere adriatico per quanto riguarda la diatriba che è sorta all'aeroporto in merito al previsto progetto del maxi parcheggio da 1140 posti in merito alla pump track al campo d'aviazione questo parcheggio dicono appunto gli amministratori ad escluderlo il sindaco serie l'assessore lavori pubblici brunori non ci sarà non è previsto e quindi è nata una storia che non ha senso arbo acquisisce verco la regina delle caldaie ora debutta nella refrigerazione commerciale si tratta di un'azienda fanese che conquista il quarto settore produttivo e conta 45 punti vendita impiegando 250 addetti da regina delle caldaie al grande butto nella referigenerazione ebbene è una delle aziende del nella zona industriale di bellocchi che si sta facendo onore e poi nella pagina della valmetauro abbiamo l'articolo che riguarda l'udienza processuale sulla violenza sessuale commessa al lido di fano imputato un ventunenne all'epoca aveva 19 anni come ci ricorda anche il corriere adriatico per quanto riguarda i fatti avvenuti il primo agosto del 2020 alle 3 di notte in zona lido a fianco del porto canale lui ha sempre negato dicendo che la ragazza era consenziente e poi qua invece abbiamo l'appello del sindaco alessandro piccini che scrive ai 15 parlamentari marchigiani per avere fondi risalcimenti e finanziamenti per quanto riguarda il pnr e agevolazioni per quanto riguarda il fisco e soprattutto meno burocrazia questa volta piccini ha indirizzato una lettera ai neo eletti marchigiani in parlamento nella quale suggerisce come in cinque mosse sia possibile dare chiari e concreti segnali alla popolazione e riconquistare la sua fiducia. Per quanto riguarda Senigallia invece anche qui ci sono problemi perché la gente si sente abbandonata ormai è passato più di un mese dal 15 settembre però insomma ancora la situazione di disagio è molto forte e la gente è veramente delusa. Sicurezza del fiume è tutto fermo noi alluvionati siamo abbandonati. L'accusa è del portavoce regione assente, un comitato che si chiama in questo modo. Aguzzi dice non è vero Aguzzi l'assessore regionale e intanto sono pervenute 1600 istanze per un rimborso dei danni. Gli alluvionati comunque procedono verso la costituzione di un unico comitato per chiedere più attenzione e un maggior coinvolgimento di tutti i livelli politici per quanto riguarda quello che è avvenuto nella zona di Senigallia ed è veramente venuta una grande tragedia. Giriamo le pagine sul Corriere Adriatico, diamo un'occhiata anche alle notizie che provengono dalla regione e vediamo una in particolare, quella che riguarda Enrico Mattei. Enrico Mattei, un grande personaggio nato ad Acqualagna, contribuì considerevolmente al boom economico dopo la guerra. Enrico Mattei è nato il 29 aprile del 1906 ad Acqualagna. Nel 1919 il padre Antonio, maresciallo dei Carabinieri, si è trasferito con la famiglia amatelica. Mattei rimase sempre un marchigiano, anche se poi cambiò ovviamente sede. Qui abbiamo tutta la storia di questo grande personaggio, le sue tappe più significative fin quanto raggiunse la presidenza dell'ENI nel 1953 portando avanti una strategia di cooperazione con i paesi produttori, allora l'Unione Sovietica e l'Iran in modo particolare, che gli varse avversioni interne e internazionali e purtroppo ne scontò con la propria vita. Il suo aereo infatti in volo da Catania a Linate precipitò a Bascapè in provincia di Pavia in circostanze mai del tutto chiarite e si ipotizza anche un attentato. Bello il titolo che appare su questo articolo, Mattei il visionario dell'indipendenza, un'indipendenza che voleva che l'Italia fosse sufficientemente capace di estrarre il carburante, le fonti energetiche per conto proprio, insomma, è stato un grande personaggio. E poi qua invece si rievoca la strage di Corinaldo. Giustizia per Mattia e gli altri cinque angeli schiacciati in discoteca. È l'appello dei genitori di una delle giovani vittime della lanterna azzurra di Corinaldo. Oggi ci sarà il processo alla commissione di vigilanza, ma le perizie rischiano l'azzeramento. Anche la commissione di vigilanza che doveva dare l'ok, che ha dato l'ok all'idoneità della discoteca ad ospitare simili eventi, ora è sotto processo. Ebbene, questi processi veramente sono interminabili, ma come è interminabile il dolore dei parenti, delle vittime che hanno visto così scomparire giovani ragazzi e anche una madre che accompagnava la figlia in discoteca. Quindi giustizia per Mattia e per le altre vittime. Il San Vecenzio fa il bis inaugurati in 104 posti auto. L'obiettivo puntare a 250. Ecco la foto dell'inaugurazione con al centro il sindaco Matteo Ricci. Il parcheggio è già attivo in vista del ponte di Ogni Santi. Non è lontano dal cimitero e quindi è importante che possa contenere più auto. Il parcheggio è già attivo in vista del ponte e del mercato del martedì. Questa è l'area interessata appunto dalla superficie di sosta piuttosto ampia. Una immagine ritratta dal drone che ha sorvolato appunto la zona. Sottopasso dell'Adriatica. Sfida per la città Giardino. L'architetto Tamino evidenzia aspetti positivi ma anche le inevitabili criticità per quanto riguarda questa rambla che dal centro storico della piazza del popolo di Pesaro dovrebbe giungere alla palla del pomodoro. Rendere più bella e vivibile la nostra città è uno degli obiettivi dei progetti di rigenerazione urbana anche in vista dell'anno della Capitale della Cultura 2024. Uno di questi è quello che riguarda il sottopasso della Statale 16 in Viale della Vittoria. È appunto quanto si dice e quanto dice soprattutto l'architetto Marco Tamino insomma uno di coloro che immaginano la città più bella. C'è la ditta per il restyling di Via Curiel. Il countdown per i lavori sosta a Natale e anche questo fa parte della città più bella. Un intervento atteso ma i residenti sono preoccupati per l'inevitabile taglio dei parcheggi. Anche qui la coperta è corta, se la tiri da una parte si scopre dall'altra, se trovi un beneficio da una parte qualcosa va storto dall'altra. Ebbene bisogna fare di necessità virtù. Vi segnalo un'ultima notizia prima di chiudere la nostra rassegna stampa. È una notizia un po' curiosa e su cui tutti non convengono. Vediamo. Bimbo scorrazza in minimoto nel campo. L'affittuario lo ferma però viene condannato. Lo ferma e lo ha accompagnato in macchina alla madre. Ebbene la madre lo ha denunciato perché non doveva prenderlo e non doveva riportarlo a casa. Si tratta di un sessantenne imprenditore che è stato denunciato dai genitori del ragazzino per violenza privata. Ed ora il giudice si trova di fronte a questo caso e ieri ha emesso la sentenza. L'imprenditore è stato condannato a due mesi e al risercimento di 500 euro. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7. E per le notizie del giorno a TG Occhio alla Notizia alle ore 20 e 30 di questa sera. E ci ho detto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.